Ti è capitato di vedere qualcosa di diverso sul profilo di alcuni utenti LinkedIn recentemente? Per esempio una riga dove c'è scritto parla di e una serie di hashtag proprio sotto al sommario o magari aver notato più frequentemente il bottone segui anziché quello connetti quando visiti un profilo? Sono gli effetti di una nuova funzione che si chiama creatore di contenuti e che ti spiego in questo video. Io sono Alessandro Gini e sono un formatore consulente specializzato in LinkedIn. Ho fondato una società si chiama App for Business e dal 2013 ci occupiamo proprio solo di LinkedIn per aiutare aziende professioniste a tranne il massimo. Siamo però una realtà indipendenti, io stesso non sono associato o affiliato a LinkedIn ma la nostra è una realtà appunto indipendente che quindi può aiutare attraverso dei training e delle consulenze che nascono dallo studio ma anche da tanta esperienza fatta in questi anni i nostri clienti. La modalità creazione di contenuti è una novità che LinkedIn ha introdotto seguendo un trend che sta spingendo da alcuni tempi ovvero quello di porre maggiore attenzione per incentivare gli utenti a essere più attivi nel pubblicare contenuti e nel creare community chiaramente intorno ai contenuti attraverso le interazioni. Questa è la vera essenza di un social network, LinkedIn lo sa e non lo sa dall'altro ieri ma nel tempo ha un po' faticato magari a veramente coinvolgere bene i propri utenti. E una delle strategie che è stata messa in campo recentemente per sbloccare la situazione è proprio quella di creare un team di persone che lavorano, addirittura c'è una pagina LinkedIn for Creators ma c'è un team di persone chiaramente dietro alla pagina e alle funzioni che stanno rilasciando una serie di nuove funzionalità e caratteristiche per spingere le persone che vogliono creare dei contenuti a farlo con strumenti più evoluti con analitiche più evolute e insomma essere in qualche modo incentivati a diventare dei Creators quindi anche su LinkedIn incominciamo a usare la terminologia di altri social, il content creator. Chiaramente essere content creator è un'attitudine prima di tutto, no? Si tratta di avere cose da dire, volerle dire, saperle dire e farlo con costanza ma le funzionalità possono aiutare la modalità creazione di contenuti o creatore di contenuti o semplicemente creator è una di questa. La modalità creator aiuta gli utenti a dare una maggiore visibilità agli argomenti di cui tratta ai poster recenti a creare una community più ampia intorno ai contenuti però attenzione a un aspetto importante attivare la modalità creatore di contenuti non dà di per sé un vantaggio non aumenta automaticamente la visibilità, l'indicizzazione, eccetera secondo alcune analisi di un qualche punto percentuale in effetti la portata potrebbe aumentare ciò che la modalità creatore fa è mettere a disposizione una serie di strumenti per aumentare la visibilità, la community e di conseguenza i risultati di personal branding di influenza di un creatore di contenuti ma poi vanno sfruttate queste funzionalità vediamone alcune la prima è la comparsa del bottone segui al posto del bottone connetti nel profilo della persona, del creatore di contenuti molti ambiscono a questo bottone fatemi dire, sembra quasi un po' darsi un tono però attenzione perché se una persona vuole in una fase specifica della propria strategia aumentare massicciamente il network di collegamenti questo forse è uno svantaggio più che un vantaggio perché col bottone segui in evidenza che per inciso si può mettere comunque anche senza attivare la modalità creatore di contenuti diminuiscono drammaticamente le richieste di collegamento mentre aumentano ovviamente molto di più i nuovi follower anzi possiamo dire che sicuramente i nuovi follower sono di più dei potenziali collegamenti che arrivano ma si perdono le richieste di collegamento inbound in arrivo quindi questa è una prima caratteristica che può essere utile ad alcuni ma probabilmente rappresentare uno svantaggio per altri vediamo una seconda caratteristica abbinata alla modalità creatore di contenuti che è quella righettina parla di che appare proprio sotto al sommario parla di hashtag linkedin hashtag personal branding questo è quello che più o meno puoi vedere sul mio profilo questo è uno spazio che si attiva solo con la modalità creatore di contenuti non c'è un modo diverso per farlo apparire e serve a indicare in modo chiaro quali sono gli argomenti di cui si pubblica di cui si parla di cui si è competenti quindi molto utile per dare un chiaro posizionamento al proprio personal brand attenzione però anche qua una piccola cosa questi argomenti che possono essere massimo 5 vengono rappresentati attraverso un hashtag davanti quindi un cancelletto davanti che le rende un hashtag ma non sono hashtag attivi quindi in realtà non diventano cliccabili non servono nemmeno ad indicizzare il profilo ad oggi perlomeno e non esiste una connessione diretta richiesta tra questi chiamiamoli hashtag topic e gli hashtag che si poi vanno a mettere nei post certo è meglio se sono gli stessi per dare una maggiore continuità e ovviamente mettere in pratica e dimostrare ciò che si è in qualche modo anticipato per cui si è creata anche un'aspettativa ma da un punto di vista tecnico non è richiesta una precisa continuità tra i due quindi sono hashtag ma possono trarre un pochettino in confusione chiamiamogli sono i nostri 5 argomenti di cui appunto possiamo parlare una terza caratteristica interessante da notare è che quando si attiva la modalità creatore di contenuti la sezione delle attività che si trova all'interno del proprio profilo viene spostata più in alto messa più in evidenza e acquisisce anche uno spazio maggiore e questo ha assolutamente senso se sono un creatore di contenuti costanti quindi se pubblico con frequenza è giusto che le mie pubblicazioni siano piuttosto in rilievo sul profilo a disposizione per chi mi visita che dando un occhio a queste potrà quindi decidere di incominciare a leggere tutti i miei prossimi post a proposito di questo come sapete c'è anche la campanella di recente quindi per ricevere le notifiche dei post di una persona non è collegata alla modalità creatore di contenuti ma direi che si sposa perfettamente con questa strategia di dare sempre maggiore rilevanza ai contenuti prodotti dagli utenti queste sono le caratteristiche essenziali quelle più visibili del profilo ma ce ne sono anche altre collegate per esempio newsletter e live streaming sono a disposizione anche per chi non ha attivato la modalità creator ma oggi sono garantite ai creatori di contenuti è una cosa un pochettino opaca un po' una zona grigia ma vengono messe in evidenza e vengono garantite ai creator e un'ultima caratteristica di cui voglio parlare in questo video e che ti può sicuramente interessare se stai pensando di attivare la modalità creator è un nuovo strumento di analisi dei contenuti pubblicati a disposizione solo per chi appunto attiva questa modalità quindi non ci sarà più solo la possibilità di vedere sotto a un singolo post il numero delle visualizzazioni chiaramente le reazioni, i commenti e una sommaria analisi demografico professionale dei visualizzatori ci sarà a disposizione anche il dato aggregato qui finisce la novità per chi si era troppo entusiasmato non è una rivoluzione però è interessante avere il dato aggregato con un grafico di andamento nel tempo di impression, view dei propri post ed eventualmente anche delle altre metriche più un'analisi demografico professionale dei visualizzatori che ancora una volta riguarda un periodo e non un singolo post purtroppo come sempre sono elenchi incompleti non si possono guardare delle proporzioni non c'è il creator rate o l'engagement rate quindi sono sempre delle analytics molto semplificati quelle dei profili personali rispetto a quelle delle pagine ma è comunque una piccola evoluzione che accogliamo con grande entusiasmo quindi le novità principali che vengono introdotte con la modalità creatore di contenuti sono il bottone segui in evidenza al posto del connetti la riga parla di con i 5 argomenti di cui si scrive la maggiore rilevanza data alla sezione delle attività la possibilità di avere un accesso privilegiato diretto a live streaming newsletter e dei nuovi strumenti di analisi per i contenuti pubblicati sul proprio profilo se stai pensando di attivarla o no ora dovreste avere le idee più chiare abbiamo anche pubblicato un articolo sul nostro blog in cui oltre a trovare sintetizzate le cose che ho raccontato ci sono anche altre informazioni e delle istruzioni proprio tecnicamente praticamente su come attivare e come fare ad impostare tutti questi settaggi che ho appena raccontato fammi sapere cosa ne pensi se l'hai già attivata se pensi di farlo se l'hai vista su altri utenti e come ti piacerebbe magari vedere evolvere questa attenzione di LinkedIn verso i creator anche qui ora viola and sam